Bentornati su Gamecasa, oggi sono a casa di Beppe Ambrosini per parlarvi della nuova collezione Jumbo Star di Villa Ervetta. Beppe, buongiorno. Buongiorno. Grazie di avermi ricevuto in questa bellissima casa, casa tua, casa di ambra in realtà, casa di ambra, in cui vediamo veramente la tua vita, la casa è il riflesso di una vita e infatti abbiamo lambretta, macchine, orologi, aerei, tappi di Mustang, quadri, Shelby, 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 scusami hai ragione, vedi che si vede che io non sono un uomo di alto, siamo lì. Si vede il tuo passato, il tuo presente, tuttora ti vediamo sempre attivo la domenica con le macchine e tutta la settimana con gli orologi. Noi ci siamo visti a maggio, ci siamo visti per chi ci segue, per chi mi segue su un'intervista assieme, per chi ci segue tutti i giorni sui social. La fama ti precede, non devo raccontare io il tuo passato tra Piaget, i WC, veramente hai fatto di tutto, Brightling, ma soprattutto non lo raccontiamo perché c'è un'intervista in cui lo racconti tu, quindi andatela a vedere. Da maggio che hai presentato il tuo arrivo in Villa Ervetta, di cose ne sono cambiate e oggi infatti siamo qua con il risultato di questo cambiamento che devo dire, sai che già ero fan, l'ho portato un po' in tutto il mondo, però ragazzi avete fatto un grande lavoro e finalmente ce l'abbiamo qua di fronte a noi. E anzi, prima ti ringrazio per ospitarmi qua in questa cassa fantastica con Ambra incredibile e poi lascio a te introdurre questa collezione, questo nuovo capitolo. Allora, diciamo da dove siamo partiti? Siamo partiti da una storia incredibile, la storia di Villa Ervetta che appunto quest'anno festeggia 100 anni ed è stato forse il motivo principale che mi ha convinto a questa nuova avventura. Io sono anni che dico e tu lo sei benissimo, che devo andare in pensione, nessuno ci ha mai creduto e in effetti sono entrato in Villa Ervetta e quando ho visto la storia di questo marchio ancora di più mi sono catapultato nel passato di Villa Ervetta, nel presente e spero nel futuro. Per quanto riguarda il Jumbo Star è l'orologio iconico di Villa Ervetta. Nasce nel 1968, qui abbiamo, non so se si vede con la telecamera, con la sua confezione originale. Pazzesco. La marca di fiducia. La marca di fiducia. La retorica incredibile. La marca di fiducia. Con il Jumbo Star nel 1968. Tu hai l'orologio che deriva diciamo da questo DNA. Quello che io ho fatto è stato quello di non modificare la cassa ma di renderla più simile possibile all'originale. Ti dico perché. E i design sono portati a portare qualcosa di loro, quindi vedono un orologio, un orologio, una macchina, qualsiasi oggetto del passato, lo vogliono reinterpretare. Io sono più per lasciare le cose come stanno. Amo il vintage e secondo me le forme del passato sono anche nella macchina. Ce lo dimostri, infatti volevo dire proprio quello. Ce lo dimostri con le auto tutti i giorni. Mi dicevi anche appunto che anche la lambretta è una questione di design. Questa lambretta che era del 1968, così come questo orologio, è stata disegnata da Bertone nel 1968 con una linea futuristica. Io ve la butto lì, sarebbe da fare Jumbo Star per lambretta. Io l'ho detto. L'avete sentito, poi ne parleremo. Stesso anno non è male. E quindi sono ritornato agli origini, riportato innanzitutto l'altezza, lo spessore. Infatti io notavo prima, qua abbiamo anche l'altro, giusto? Sì, sì, questo è uguale ma con il bracciale in acciaio. Esatto. Uno con la scritta Jumbo Star, uno con il 6,60. Esatto, perché? Perché questo qui era importato in Italia e questo qui la versione americana. Corretto. Quindi 6,60 sono i fit e sono 200 metri. Quindi ecco la differenza tra i due. Questo è il tuo bracciale originale che poi ci siamo riportati a quello che attualmente facciamo. Quindi non abbiamo voluto cambiare più, diciamo, l'identità dell'orologio. Abbiamo fatto chiaramente delle innovazioni tecniche, che adesso ti spiegherò, però se tu metti a confronto i due orologi è difficile per l'occhio non attento riconoscere le differenze. E questo era l'intento. Beh, direi che ci siete riusciti. L'unica cosa che cambia al tatto soprattutto è la differenza di età che fa sì che appunto l'orologio d'epoca sia un po' più delicato, un po' più morbido nel bracciale. Però secondo me a livello di linee ci siete riusciti. Avete mantenuto gli stilemi classici del Jumbo Star del 68. Devo dirlo, non dovrei, il nuovo è un altro. Cioè, io che ho portato tantissimo quello che avete fatto due anni fa. Hanno fatto, io sono entrato a marzo. Giustissimo. Comunque quello che Villervetta proponeva prima, che è un bellissimo orologio che continua a portare volentieri, però visto a confronto con il nuovo tra spessore, ma anche solo il logo ridotto, la scritta cambiata. C'è stata una grandissima evoluzione. Mi dicevi appunto, dettagli tecnici. Avete mantenuto tutti gli stilemi tra lancette, indici e anche la cosa poi speciale di questo orologio è la configurazione in assoluto. Intanto sono quattro elementi che sono dalla cassa, non tre, non è un crono classico. È un orologio molto riconoscibile. Ha un DNA pazzesco. Non ha copiato nessuno. E questo è importantissimo. È un orologio riconoscibile. Il mercato di oggi è una cosa, non dico più unica che rara, ma rara, rara. Un orologio portabile, tutti i giorni. Puoi portarlo con il cinturino in cuoio, con quello in metallo, se ti piace più ovo, è l'inverno, è l'estate, il sudore, mica il sudore. E la cosa bella è che puoi portarlo senza aver paura, che te lo rubino. Puoi acquistarlo a un prezzo accessibile. So che è un vostro punto comunque molto di forza. Certo, sai io vengo da tutti i marchi di grande prestigio. Oggi un po' il problema, se vuoi, secondo me, delle marche è di essersi ribellati tutti in una fascia molto pericolosa. Completamente. Che è quella di Rolex. Quindi tutti si sono andati a installare sui 8-12 mila euro. Complicato da reggere anche perché Rolex ha un marketing che fanno da molto prima che fosse di modo a farlo. Quindi mi son detto c'è terreno anche per noi. Un orologio di questa qualità, con il Movimento 2894 ETA, vetro zaffero bombato antiriflesso, due corone a viti a 2.900 euro. Sfido tanti altri marchi. E per ultimo, con la produzione anche limitata. Perché noi alla fine faremo 5.000 orologi. Quindi hai comunque un orologio che ti distingue. Certo, certo, chiarissimo. Sai, stare in una tavolata con 10 persone. Che hanno tutti lo stesso orologio al polso. Che 9 hanno il Rolex al polso. Sì, sì, sì. Io sono un fan di Rolex, attenzione. Ricordo bene. Sai benissimo che io non parlo mai male di nessuna marca perché ognuno c'è il proprio mercato. Il mio sistema ha fatto di tutti, certo. E' per questo che ho lavorato 47 anni in questo settore, avendo tanti amici. Però se vuoi essere un po', chiamiamo, diverso. Certo. Avere qualcosa che ti dicono, ma che orologio hai? Bello, non bello, mi piace, non mi piace. Ma è diverso da quello che portano tutti. Ma infatti io ti faccio questa domanda. A me sembra, visto che tu hai un passato importantissimo, è veramente una volta che però io vedo proprio un progetto di passione dietro tutto questo. Beh, assolutamente. Perché di base vedo che oltre a essere sicuramente un lavoro a tutti gli effetti, perché ogni volta che ti chiamo stai facendo qualcosa con la Svizzera, con la Francia, con qua, con là, più o meno. Con qualcuno. Esatto. Però a parte questo vedo proprio che ci tieni, ci tieni tanto. Assolutamente. Ed è qualcosa che comunque secondo me poi traspare nella cura che ci avete messo. Qual è la cosa di cui sei più fiero di questo orologio? Sono un perfezionista. Allora, in questo caso, proprio questo orologio che hai tu in mano e il quadrante. E il colore è pazzesco. Un po' colorambra. È colorambra. Un po' colorambra. È ruggine e abbiamo fatto tantissime prove per ottenere questo colore e siamo veramente, veramente soddisfatti. Ma sono soddisfatto del progetto, dell'orologio. A me piace portare un orologio che mi piace portare. Certo. Ok. È una cosa più importantissima. Io questo lo porto contento di portarlo, che non è un dettaglio. Per niente. A volte ho portato alcuni modelli, attenzione, non... Il marchio in assoluto. Non il marchio. Ho lavorato per dei marchi che... Uno più bello dell'altro, quindi... Però alcuni modelli di alcune marche dovevo portarli perché dovevo portarli, ma non ero contento di portarli. Questo è un orologio che mi piace portare. E che non è un dettaglio da poco. Persino i cinturini. E sai che ho un passato anche nei cinturini. Esatto. Sai che quella è la cosa che mi ha stupito di più di tutte... Di Camille Fournay. ...della tua storia. Perché comunque tu sei sempre stato nella mia testa un uomo comunque marchio. Però Camille Fournay ti mostra che sei anche imprenditore. È diventato un marchio. Esatto. È diventato un marchio. E non è da poco. Sui cinturini avete fatto un grande lavoro. E ai cinturini... Abbiamo un cinturino di una morbidezza, di una qualità che non è seconda a nessuno. Grazie alla collaborazione con amici che mi hanno seguito. Qualche consiglio l'ho dato. Abbiamo ottenuto un cinturino di grande livello. Sebbene bombato rimane morbido. Morbidissimo. Ha una pelle fantastica. Imbottita in un bombato. Quindi il dettaglio che fa la differenza. Sono i dettagli che fa la differenza. Poi c'è anche il solo tempo. Che comunque chiaramente il crono è penso la punta della collezione. Allora, questo orologio è nato nel 1968 come cronografo. Ok. 40 mm, ecco perché si chiama Giambo. Certo. Ha due ragioni per cui si chiama Giambo. Uno era all'epoca uno degli orologi più grandi. Perché gli orologi dell'epoca andavano 38-36 mm da uomo. La famosa misura ragazzo. Sì. Ok. Quindi 40 era un orologio di dimensioni, volumi, grandi. Seconda cosa, il 1968 era stato l'anno di presentazione del Giambo, dell'aereo. Ok. Il Giambo fu presentato nel 1968. Quindi in quell'anno, sia per il Giambo aereo, sia per il Giambo misura, fu chiamato Giambo Star. Star perché era, doveva essere uno dei orologi, tra gli orologi più belli. Quindi ha un nome già con un suo bel perché. Assolutamente. È cambiato veramente tanto. Io mi sto prendendo un attimo di tempo per vederli uno accanto all'altro. È cambiato un mondo. È cambiata, vedo anche la disposizione dei contatori. Sì. tempo, ma con una cassa differente e con le corone tutte e due a destra. Ok. Quindi alle tre e alle, no scusa, alle due e alle quattro. Super compresso dalla fine, come idea. Esatto. Io ho preferito rimanere con la cassa del Giambo che è più particolare. Lì andavamo con le due corone a destra, anche sulla scia, i longines, eccetera, eccetera. E ho voluto restare fedele al Giambo Crono. Ma infatti voi siete riusciti a fare una cosa che è notevole secondo me, perché di orologi con più tasti corone, poi che ci siano, ce ne sono parecchi. Il problema di quasi tutti quegli orologi è che sono tremendamente barocchi. E voi siete riusciti comunque a tenere qualcosa di minimalista, di ridotto. Classico ed elegante. Esatto. E sportivo allo stesso tempo. Esatto. Non era proprio facile. Insomma. Sei soddisfatto? Molto, molto. Guarda, abbiamo tanti progetti. Eh, infatti, io lo so che tu non ti fermi al presente. Io ti conosco ormai. No, abbiamo tanti progetti, di cui adesso non posso svelare, ma vedrete a breve. A telecamere spente, però, attendo. Poi te lo dirò. Attendo. Però abbiamo veramente tanti progetti che sono sicuro faranno parlare. Vedi, io ho lavorato, come sai, per tanti marchi, ho vissuto tante filosofie che sono dalla filosofia del prodotto alla filosofia del marketing. Alla filosofia del marketing del prodotto. Le ho viste un po' tutte. Noi vogliamo partire dal prodotto. Ok. Quindi dalla sostanza, chiaramente. Ho visto dei nuovi marchi che stanno pompando tutto spiano con marketing, marketing, marketing. Lo porta Tizio Casempronio, poi vedi orologi che dici, boh, ma rassomigliano a cosa? Qual è il loro DNA? Noi abbiamo il DNA. Il marketing verrà di conseguenza. E anche perché avete tutta la storia. Oggi si parla tanto di storytelling. Voi ce l'avete in casa senza doverlo inventare, senza doverlo costruire. Anzi, la devo gestire, perché è talmente tanta. No, beh, direi che... Beh, tu lo sai, noi ci conosciamo da tempo. Conosco il progetto da tempo. Sono sempre stato vicino, anche perché... A parte che siamo vicini di casa, praticamente. Certo. Che aiuta, anche perché si è poi così coinvolti un po' a tutto tondo. Però c'è una filosofia, c'è un... C'è un perché in tutto quello che poi fate. Sono curioso, anche per chi a maggio avete poi già annunciato anche altro che oggi non faremo vedere. Vabbè, abbiamo visto qua il ruggine, il nero. Il ruggine è nero, verde e blu. Ok. Quindi quattro quadranti che sono uguali sia sul crono che sul solo tempo. Quattro bei quadranti. Presi dalle auto. Eh, secondo me, secondo me è un po' di ispirazione. Cioè, comunque avete giocato questa volta. Perché il nero rimane il classico, rimane poi... Il nero è il suo e gli altri quadranti li abbiamo creati noi. Con i contatori a contrasto, che secondo me è molto bello. Gli altri però è anche una bella risposta veloce al mercato, che comunque ormai, devo dire, il colore... Funziona. Funziona. E tu il colore lo conosci perché in Chiamil Fournay è stata poi la cosa che vi ha resi... Siamo stati i primi a fare i cinturini colorati. Beh, caspita. Bene, bravi. Mi hai detto che questi sono in consegna. Sì, quindi dalla prossima settimana, già questa settimana abbiamo cominciato a consegnare il solo tempo. Ok. E dalla prossima settimana arriveranno il crono, il solo tempo, neri e ruggine. Ok. Dai primi di novembre il verde e il blu. Cominciato con il verde e blu, perfetto. Quale ti aspetti che avrà maggior successo? Lo so che è una domanda idiota perché tanto non hai la sfida di quest'anno. Allora, il nero sarà l'orologio che, diciamo, piace a tutti. Questo ruggine mi sono particolarmente legato. Ma ti dirò che sono belli tutti e quattro. Ma sei legato come mai? Qual è la storia del tuo ruggine? Oh, madonna. Eh, il ruggine è bello, è bello da vedersi ed è nuovo come colore. C'è una scommessa dietro? Tu parli troppo. No, no, io cerco di capire, cerco di capire, vabbè. Me lo racconti dopo. Beh, Beppe, io intanto ti ringrazio. Direi che abbiamo visto più o meno tutto. Spingo tutti a notare la vera differenza di spessore di cassa e semmai avrete… Pazzesco. Sono 3 mm meno. Devo dire, se ci sarà occasione di vedere dal vivo l'originale con il… Non è un tributo, comunque con la versione attuale vale la pena perché realmente si può capire il lavoro che c'è dietro. Bravo. Grazie. Intanto grazie di avermi avuto qua e… beh, direi che non è l'ultima volta che ci vediamo. No, ci vedremo ancora. Beh, e allora con cosa li lasciamo? Con quale perla li lasciamo? Alla prochaine. Alla prochaine. Sappiate che ce ne saranno delle belle. Dele belle. Grazie, Beppe. Grazie. Andiamo a giocare con Ambra. Grazie a voi. Grazie per averci seguito. Iscrivetevi, seguite Villervetta, seguite Peppe Ambrosini, seguite IEM Casa ma non dovrei dirvelo. Lasciate un commento, fateci sapere qual è il colore che avete preferito e se vi piace l'orologio. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.